E' stata approvata dal Consiglio regionale della campagna una mozione per garantire il decoro dei luoghi adibiti alla terapia chemioterapica a beneficio della condizione psicofisica del paziente oncologico. L'iniziativa è del consigliere Tommaso Pellegrino, per il quale ha un ruolo importante l'umanizzazione dei luoghi di cura. Approvato dalla Giunta Comunale di Atrane il preliminare per la realizzazione delle opere marine a difesa del centro abitato, dopo la firma della Convenzione con la Regione per la gestione finanziaria del progetto, l'obiettivo è quello ora di riuscire a recuperare quanto prima tutti i finanziamenti per portare avanti il progetto completo di messa in sicurezza di tutto il fronte mare, stimato in circa 5 milioni e mezzo di euro complessivi. Una nuova scuola sorgerà a Maiori, lo ha reso noto il sindaco Antonio Capone con decreto dirigenziale dello scorso febbraio. Infatti la Regione Campania, all'interno dei progetti regionali di edilizia scolastica denominati Scuola Viva in Cantiere, ha approvato il finanziamento di 9.270.000 euro circa per Torre Scola, il progetto presentato dal Comune di Maiori per la costruzione di una nuova scuola in via De Iusola. A Corletto-Monforte sono stati eseguiti lavori di sistemazione e messa in sicurezza della strada provinciale 12 nel tratto che attraversa il Comune degli Alburni. Tutto il tratto di strada è stato riasfaltato. Sono state installate le barriere di sicurezza, ripristinati i tratti franati o contraddistinti da avvallamenti. È stata realizzata la nuova segnaletica stradale, orizzontale e verticale. Per una maggiore sicurezza nel centro abitato, inoltre, sono stati installati rilevatori di velocità. Sottoscritto un protocollo d'intesa tra ASL, Salerno e Guardia di Finanza, finalizzato alla prevenzione presso la sede del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Salerno. Il protocollo è stato stipulato dal Comandante Generale Oriol De Luca e dal Direttore Generale dell'ASL, Gennaro Sosto. L'azienda sanitaria locale, nel piano già in atto di prevenzione delle malattie oncologiche, ha accolto con entusiasmo la richiesta delle fiamme gialle di siglare appunto un accordo per sensibilizzare gli appartenenti al corpo a sottoporsi all'attività di screening del colon retto. Procedono i lavori di messa in sicurezza e adeguamento del viale Carmine Rossi nel centro storico di Agropoli. A intervento ultimato, la città avrà a disposizione, in un punto panoramico, a pochi passi dal castello Angioino a Ragonese, un nuovo percorso pedonale in prosecuzione di quello esistente con ampliamento della sede stradale che permetterà manovre più agevoli da parte dei veicoli in transito. Sarà realizzato inoltre uno slargo che fungerà da Piazzola a Belvedere e sarà rifatto l'impianto di pubblica illuminazione. Sono iniziati i lavori di riqualificazione e manutenzione straordinaria della promenade in legno posta sul lungomare alla frazione di Santa Maria di Casellabate. L'opera rientra in un più ampio progetto di restyling della zona che è di particolare interesse a livello turistico e paesaggistico. Fondi per 100.000 euro per migliorare la sicurezza delle scuole di Mercato San Severino. Grazie al piano regionale Scuola Viva in Cantiere attuato per migliorare la sicurezza all'interno degli edifici scolastici, il Comune della Valle dell'Irno ha ottenuto altri tre importanti finanziamenti per la sicurezza dei plessi scolastici del territorio. Grazie a tutti!